Presentato a Palazzo San Giacomo il progetto sperimentale I figli degli uomini per promuovere l'affidamento dei minori come strumento di sostegno psicosociale per la creazione di reti di solidarietà. La tutela di bambini e adolescenti che vivono in situazioni disagiate viene spesso realizzata attraverso l'affidamento etero familiare, vale a dire il trasferimento temporaneo del minore in un contesto diverso da quello di origine. A differenza del caso delle adozioni il soggetto affidatario può essere una famiglia, un individuo singolo, una comunità educativa purché ritenuto idoneo e avviato a un percorso di formazione. Siamo all'inizio di un percorso che vogliamo rafforzare sempre di più nel tempo. L'affido familiare è una grande risorsa che può essere offerta a favore dei bambini in maniera assolutamente gratuita e non intendo dire economicamente ma gratuita nel senso di supporto vero, supporto consistente e assolutamente determinante per il benessere dei bambini. Purtroppo però è qualcosa di poco utilizzato ancora per cui ha bisogno di sostegno forte e in questo l'amministrazione ha scelto di investire su questa tematica. Per poterlo fare abbiamo chiaramente messo in moto un po' tutti i percorsi nei vari territori della città ma anche soprattutto cercato di mettere in rete tutte le associazioni che anche si interessano di affido familiare ma anche di adozione, cercando di coniugare il bisogno dei bambini anche con il desiderio delle famiglie di offrire un sostegno alle famiglie in difficoltà. Realizzato dall'associazione Ariete e patrocinato dal comune di Napoli, il progetto I figli degli uomini si concentra soprattutto nel centro storico della città e formerà famiglie che hanno già l'esperienza dell'adozione.